da punto di riferimento dei progressisti ad apolide in cerca di cittadinanza nel centro sinistra il capo politico dei 5 stelle in colpa il non voto del tracollo grillino e torna a parlare di terzismo in gioco gli equilibri del partito e l'alleanza coi dem un commento da quelle parti lo si è cercato per tutto il pomeriggio e per tutto il pomeriggio però lo si è cercato in vano trovare una dichiarazione dai dirigenti dell m5s è stata un'impresa aspettiamo conte ripetevano chiudendosi in un silenzio imbarazzato solo che giuseppe conte nel frattempo non parlava non pervenuto per ore dando a tutti il senso di un partito tanto primo in parlamento quanto marginalizzato alle amministrative un risultato in vero già reso chiaro da settimane dai disastri del primo turno poi come un lampo a risultati già acquisiti il post l'ex presidente del consiglio sceglie facebook per commentare i risultati dei ballottaggi ma del trionfo del centro sinistra di cui sarebbe alleato in teoria non c'è traccia anzi a essere rimarcata è la distanza con il p di quanto ai risultati dei ballottaggi si legge il movimento 5 stelle a roma torino e trieste sarà all'opposizione lavoreremo in modo costruttivo ma senza fare sconti a chi governerà le città perché la nostra stella polare sarà sempre l'interesse esclusivo dei cittadini alla faccia delle grandi coalizioni al centro del suo commento la scusa già usata al primo turno da meloni e salvini per giustificare il tracollo il vero protagonista di questa tornata di ballottaggi è in modo drammatico l'astensionismo che sfiora il 60 per cento è un dato che deve farci riflettere e dovrebbe allarmare tutte le forze politiche